Coordinante, centro, tre, eliminare! Ecco, tre, ricevuto. Aprire il fuoco! Atticua aereo imminente! Attention to the map! A light forward to capture the zone. A light forward to capture the zone. Avanzare! Avizio il fuoco, avanziamo. Olvito! Pridate! 4, 4, eliminare! Forza! Forza! Ricevuto! Aprire il fuoco! Forza! Avanzare! Borsaglio colpito! T-34 a ore 1! Distanza... 300 metri! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! Attacco martiglieria! Coordinate... 4! 4! Eliminare! Borsaglio colpito! Apre il fuoco! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! Crate! Borsaglio colpito! Borsaglio colpito! I'm a commotator e walks! Borsburg hoaglio! Borsaglio colpito! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti